Se faccio un headshot il video finisce, beh dovrebbe essere facile Ok ragazzi ci stiamo dirigendo all'Islake per tentare la sfida, se faccio un headshot il video finisce Non so come finirà, sono solo ragazzi che l'ho provato un paio di volte e questa sfida è veramente folle Dato che i primi due colpi che ho dato in entrambe le partite erano headshot, cioè o sono diventato Grazie